Coronavirus, altri 116 contagi in Campania si conferma il rischio che arriva da fuori regione. 30 casi da rientro dalla Sardegna e altri 24 di ritorno dai paesi esteri. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, torna in pressing sul governo nazionale per il caso Sardegna e chiede al ministro Speranza tamponi di massa e screening anche per chi ritorna e arriva dall'isola italiana. Dobbiamo continuare con assoluto rigore il lavoro di ricerca e isolamento dei positivi finché non si esaurirà l'onda dei rientri, torna De Luca, e sono 3.132 tamponi eseguiti in 24 ore questi i dati del bollettino di oggi dell'unità di crisi della regione Campania. Il totale dei positivi è di 5.838 unità. Non si registrano né deceduti né anche guariti e ci sono stati i primi quattro ricoveri nel Covid Center dell'ospedale Loreto Mare che ha riaperto le porte. Si tratta di quattro migranti risultati positivi al coronavirus che sono stati trasferiti da un centro di accoglienza di San Giorgio a Cremano e verranno ora trattati nell'ospedale del centro cittadino. Alla luce del nuovo aumento dei contagi è stato deciso di riconvertire nuovamente il nosocomio di Via Marina a Covid Hospital per essere pronti con i posti letto necessari per i ricoveri che dovessero essere imposti dalla situazione, ha spiegato il presidente De Luca. Nel pomeriggio anche l'arrivo di altri pazienti attualmente ricoverati nel Covid Center dell'ospedale del Mare, nel quartiere Ponticelli, sempre a Napoli dove attualmente i posti letto occupati sono 23.